Con questo caldo e con questo freddo, chi bussa a questo convento? A quelli del primo piano, per l'ultima diretta della stagione, il nostro Francesco Silenzi. Bentornato Francesco, sei abbronzato? Sei stato al mare, bravo. Neanche tenta di dire ma no, sono stato al mare, sono abbronzato. Ok, Francesco allora senti, tasto dolente, oggi è bello, domani? Domani anche, domarrà il bel tempo, anche domani, dopo domani, insomma i primi giorni della prossima settimana. Dopodiché? Dopodiché, panico, panico, paura. No, niente di esagerato, comunque a metà settimana avremo un leggero peggioramento, quindi un po' di stabilità con qualche pioggia, qualche temporale, però sarà una cosa, non un episodio di maltempo, insomma significativo, sarà in stabilità semplicemente, quindi avremo magari più sole la mattina, poi addensamenti nel pomeriggio, qualche temporale, qualche rovescio sparso, fino al weekend, all'inizio del weekend, quando comunque dovrebbero scendere un po' le temperature, purtroppo, perché potrebbe, dovrebbe essere in teoria il primo weekend estivo, invece le temperature diminuiranno un po' rispetto a questo fine settimana qui, avremo una massima comunque intorno ai 20-22 gradi, minima intorno ai 10-12 gradi, perciò temperature miti. Tra un po' dovrai cambiare la grafica del tuo profilo, perché siamo ancora con la neve. Quella è fissa, rimane così. Decisamente. Beh, vabbè, insomma, tutto sommato pensavo peggio. No, no, niente infatti di serio, solo che non sarà proprio clima del tutto estivo. Da mare, diciamo da mare, anche se quel weekend lì poi si aggancia al 2 di giugno, quindi insomma avrebbe fatto comodo un weekend lungo da passare in spiaggia. Anche a livello turistico non faceva schifo. Però, vabbè, insomma, l'importante è che non torni proprio il freddo freddo. Fino a 20 gradi possiamo tollerare. Non nevicherà. Allora, l'abbiamo tolto questo piumone ufficiale? Io sì, per quello torna il freddo, ma ce l'ho tolto. Allora tienilo in caldo. Volevo chiedere a Francesco, visto che comunque arriviamo da un periodo di grandi precipitazioni. Sì, compra una vocale, gira la ruota, precipitazioni. Ecco, ok, va bene. Tutta questa umilità che sta evaporando in questi giorni, che cosa causerà? Sì, questo comunque incide il fatto che i terreni sono staturi d'acqua per le piogge molto molto abbondanti che ci sono state negli ultimi mesi. Farà sì che con l'arrivo del caldo, più che altro, più che il rischio di precipitazioni, ci sarà il rischio di AFA. Quello sicuramente perché caldo e umidità si combinano in questo modo, creando condizioni di disagio, quindi di AFA, che saranno più probabili rispetto ad altri stati. Tutti al mare. A mostrarle chiappe chiare. Sì, beh sì. E tutta la burella qui che abbiamo accumulato. Dai, prospetti la dibutata così. Però insomma, quelli un po' più rotondi sono, come dire, più simpatici. Sono più simpatici. A proposito di Gurelle, è arrivato il cadeau. È arrivato. Qui si magna sempre, mannaggia voi ragazzi. Ha arrivato Franco, il nostro caro, carissimo Franco, che ci ha raggiunto un bacione, dopo te lo do proprio dal vero, e ci ha raggiunto perché viene con noi ovviamente. A maniera. A maniera. E poi insomma rimane qui con noi. Panza mia, fatti capanna. Ma anche no. Ancora me anche no. Ma no, è già così. È infatti. È già capanna. Gli devi chiedere qualcosa poi a Franco. Ma certo. Ne faremo più tardi. Intanto ci congediamo da Francesco. Grazie Francesco. Francesco viene con noi, quindi se avete delle cose da dire, da fare, potete raggiungerlo insieme a noi, sarà pranzo. Tutti a mangiare, tutti a mangiare. Sì, sì, viene anche lui. A tra poco con quelli del primo piano. Quelli del primo piano.